Era doveroso celebrare il centesimo anniversario della nascita di Maria Callas, non potevamo esimerci da questo importante appuntamento. Un omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita al teatro Signorelli di Cortona Callas 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 con le coreografie di Adriano Bolognino, Carlo Massari e Roberto Tedesco ed i danzatori della compagnia Opus Ballet. Devo dire che ho sempre amato questa grande diva, questo grande personaggio e quindi quale occasione migliore per omaggiarla. Ogni coreografo ha portato in scena un diverso aspetto della vita e dell'opera di Maria Callas in un vero e proprio trittico coreografico. Siamo felici che in questo spettacolo ci sia stata la possibilità di calarsi in tre scenari differenti, quindi la difficoltà ma anche la bellezza secondo noi da interpreti del lavoro è stato calarsi in tre sfumature diverse di quella che è una donna, una donna che tutti noi conosciamo, un mito, la divina, l'unica e sola, però non si parla solo di lei come artista ma anche di lei come donna nella vita privata o di mito che è rimasto nella mente di tutti noi e che si protrae nel tempo e come è rimasto. Grazie a tutti. Grazie 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 Grazie